Parte Palazzo, 2-1 Inter, 34esimo, l'Inter ribalta sempre nella stessa maniera con la velocità e la tecnica. Sì, anche con convinzione, il passaggio gol di Palazzo a Guarin lo ha un po' secondo me liberato perché Palazzo non aveva mai trovato un'azione decisa, non era mai dato convinto al tiro a rete. Lo stop è stato perfetto, ha superato Acerbi in velocità e poi ha incrociato dalla parte opposta con un tiro radente l'erba. Un gol e un assist in 34 minuti per Palazzo, gol del 2-1.